Grazie a tutti e grazie davvero. Devo essere onesta, non pensavo che ce l'avremmo fatta. Quando l'avevamo programmata era marzo, eravamo partiti a dicembre a parlare della mostra, avevamo fatto in questo palazzo un incontro con il professor Paccenda dove venne a raccontarci Ottone Rosari. Fu un pomeriggio veramente strepitoso, magico devo dire perché raccontò anecdoti e percorsi di vita di Ottone Rosari che nessuno di noi conosceva e mi innappo davvero la curiosità per questo personaggio. Si cominciò a lavorarci, devo dire che io per questo non posso far altro che ringraziare chi poi materialmente si occupa di queste cose, quindi permettetemi un primo ringrazio Piero. Piero che ha la capacità di mettere in fila tutte le richieste che noi facciamo in concretizzate, perciò davvero grazie. Insieme a te ovviamente ringrazio Lauretta e Sandra e io le farò poi in separata serie. Non pensavamo davvero di potercela fare perché ci siamo dovuti fermare a dieci giorni dall'apertura della mostra. Ripartire è stato per certi versi faticoso ma anche stimolante, cioè ce lo siamo messo davvero come obiettivo sempre fermo restando tutti i protocolli di sicurezza. Perciò abbiamo anche avuto la possibilità di uscire da certi modi di lavorare, non ultimo il fatto che c'è la possibilità di fare le informazioni online con la possibilità di fissare il proprio posto e il proprio biglietto pubblico, vedendo quante persone già ci sono. Pensate voi, noi siamo una pubblica amministrazione, siamo un comune, non siamo un museo privato. Questo è per certi versi un salto ed è un cambio di passo che devo dire io apprezzo tantissimo perché in queste situazioni qui si rimane più bruttivi, però poi si trova la forza di reagire e questo è un sistema che potrebbe ripartire. E la cultura è un volante. Se si riesce a fare partire, la cultura si rascinano dietro tutta una serie di settori e di attività. Se uno ha la possibilità di venire a Montevacchi, visitarsi la mostra in modalità sicura, con il biglietto della mostra si può anche andare a visitare praticamente la collezione che abbiamo al Museo del Castro, quindi il nostro museo civico. Abbiamo fatto questa joint venture con un'altra nostra grande collezione che anche essa rappresenta la scultura dell'Otto Novecento, quindi c'è la possibilità poi di fermarsi a mangiare. Ecco, vi ho semplicemente elencato tre posti, ma sicuramente attraverso una cultura fatta in modalità sicura e rispettosa a questo punto dei protocolli perché purtroppo dobbiamo convenire che questa cosa passa in tempi rapidi e quindi in qualche maniera dobbiamo preparare a conviverci. Ecco, questo ci sembra un qualcosa che in qualche maniera possiamo essere orgogliosi. Non mi addentro nella mostra, c'è la possibilità di vederla, il sindaco ha già detto molte delle cose. Dico soltanto che la mostra è il frutto anche della collaborazione economica ma anche, come posso dire, a titolo gratuito, comunque morale di una serie di enti e di una serie di aziende. Ne abbiamo alcune che ci hanno fornito del materiale, quindi abbiamo dei sponsor tecnici, poi insomma abbiamo degli sponsor economici. Vi cito uno per tutti, ma semplicemente perché sarebbe una ingagnata inutile ed è la camera di commercio. C'è sempre affianco su queste cose, per cui credo davvero che anche una piccola realtà come Montevarte, che non è davvero nel circuito dei grandi musei e delle grandi città, siamo riusciti in almeno un paio di occasioni a fare due mostre di livello nazionale e in attività internazionale. Perciò davvero grazie ancora a chi ci ha dato l'opera e grazie a chi ha prestato la propria intelligenza e il proprio sapere e grazie a chi ha fatto, in modo che dal 29 di ottobre fino al 31 gennaio si potesse avere una mostra di questo livello a Montevarte. Grazie ancora.